Buonasera a tutti. Sindaco, un momento. Non posso parlare. No, no, no. Deve parlare. Mi hai appena dato il microfono. Adesso il Presidente te l'ha dato, ma il vecchio del carnevale te lo ripresa. Presidente, cosa devo fare? Questa scenetta qui non è stata studiata, se mi devo faiare di bottone o meno. Finché non ho consegnato le chiavi sono ancora il sindaco. Però le devi consegnare in un certo modo. Allora, come dice lei Presidente, vi do il microfono. Va bene, vediamo. Sindaco, grazie di tutto quello che fai per il Comitato Polentici di Uri. Una cosa che ti piace della nostra associazione, una cosa che mi hai fatto notare. E io con tutto il cuore, a nome di tutto il Comitato e a nome mio, amico mio, ti consegno il medaglione mio del Comitato Polentici di Uri. questo è un bel gesto. Grazie Vincenzo. Lucio, c'è un problema. C'è la fase 2, devi lasciargli la fascia a buttare. Adesso passiamo alla consegna delle chiavi, io riposo 10 giorni. Mi raccomando, non fate disastri, d'accordo? Se c'è un problema in città, un buco, qualcosa che non funziona, andate dal tono e dalla CIA. C'è candene. D'accordo? Se c'è candene. Va bene. Grazie, grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.